Ha accettato il nostro invito, quindi ha mantenuto la promessa, perché uno così arriva nel periodo più difficile per la Roma e sarà proprio lui a risollevare le sorti della Roma. Già non ti ricordi più il nome? No, no, proprio lui. Ho capito. Siamo proprio lui, proprio lui. Siamo a te, ero sclerotica, però insomma, la soglia dei 40 anni, ancora mi ricordo l'ospite, vale? Lo vogliamo presentare insieme? Vai, vai. Si chiama Gabriele, questo è il nome. Il cognome? Siamo un po' 007 questa cicletta. Vincenzo Canzonieri, ciao. Il cognome è Rubini. È una preda preziosa. Buon pomeriggio a Chef Rubio. Buon pomeriggio a voi. Ci abbiamo fatto. Hai capito, tu sei capito. Hai capito, una gabbia di mare. T'altro c'è, ha creato un traffico in regia che insomma, neanche nelle migliori serate. È una sigla di suo programma. Adesso mi sbaglio subito due congiuntivi così, ta ta, e facciamo scappa tutti. A posto, perfetto. Ma non è che il mondo delle radio romane, spicchi per... Io il pubblico che vedo in questo momento in regia non c'era neanche per, che ne so, boh, mazza, eh. Neanche per il primo giorno della palla. Veramente sono venuti per domandarsi chi sia. Ma questo qua, grosso e stancorito, ma chi è? Autopresenta di Chef Rubio. Autopresenta, sei bravo. Il re della gricia non era così. Non era così, non era così. Tra l'altro mi dicono, io vorrei salutare anche Barbara, che in questo momento c'è scomparsa me all'ufficio stampa del nostro chef, che è un personaggio fantastico, tra l'altro. Infatti la prossima volta vi diamo anche lei in studio, perché secondo me è la... No, ma è lei che era... Era lei che era la chiamata. Era lei che era la chiamata, pure secondo me. Dani, usciamo io e te e facciamo entrare Barbara. E mi ha detto che neanche è una delle cose che ti rappresenta in realtà meglio. Quindi noi l'abbiamo citata per curriculum, perché davamo una presentazione, insomma, forfettaria di quello che sei, del tuo personaggio, ova della persona, parleremo magari più avanti, però non è in realtà il programma che hai fatto, che ti rappresenta di più quella che è la tua anima di chef, lo chef irriverente, quello un po' curioso che va in giro per le stradine di tutto il mondo. Metto le mani dappertutto, mangio e non pago. Non è carino. Ah, mangio. È tipo Bardo Righetti, c'è Pasqua. Esatto. No, che pari che passo con un grosso saluto, un sorriso, me ne vado e me la cavo se... Sì, sì, sì. Fondamentalmente Chef Rubio è romanista, perché se no... Che stanno a fare? Fai improvvisamente una trasmissione di cucina su Teleradio Stereo 92.7. Parliamo della Roma. Oltre alla cucina. Anche se il tuo sport, diciamo, più amato del cuore non è il calcio. Ho praticato rugby, però non ho mai guardato quanto invece ho guardato il calcio. Per paradosso faccio cucina ma non la guardo, facevo rugby e guardavo calcio. Non avevo poi la fortuna di poter andare allo stadio spesso e quindi all'Olimpico, come ce l'avranno visto 6-7 volte in tutta la mia esistenza. Per paradosso, perché poi adesso effettivamente il paradosso è che la cucina si guarda, no? È diventata un fatto dei guardoni. Cioè ormai sono chef ovunque. Tutti i pedicisti. Che insegnano arte. Tra l'altro con una severità che posso dire è un po' fuori luogo anche perché tutti quelli che abbiamo in tv c'hanno una severità mai vista. Sì, proprio gli arti spurano. Ma anche un po' di moda, va anche un po' di moda. Fa molto fico. No? No, non so. Chi è che non c'ha da sta moda? No, ma anche un po' di moda adesso a fare programmi sulla cucina perché sai che sono sinonimi di... Ah, pensavo che andava di moda a buttare per terra i piatti. No, no, no. Pure in tempo di crisi. Sì, è stato dato a cordonacci insomma e poi si è diffuso questo palpizzo. Lui è stato il capostipide dei piatti rotti. Esattamente. Poi. Degli insulti. Vabbè, ma sono cose che spero passino di moda perché la cucina è altro. Non è assolutamente... È uno show, no? È il rendere la cucina uno show. Diciamo che la cucina fa una pasta al pomodoro. Ma che te racconta? Fammi spaccare sto piatto. È per divagare, ho capito. È come quando parliamo da Roma. E bam. Nel frattempo ragazzi iniziate anche Napoli-Sassuolo. Siamo al decimo. Bene il Sassuolo. Bene il Sassuolo ci sta provando. Insomma, noi dobbiamo aggiornare i nostri ascoltatori ma ci aggiorniamo anche noi. Ovviamente perché è una partita che interessa da vicino la Roma per il secondo posto. Caro Gabriele, noi ti avevamo sentito qualche settimana fa, se non sbaglio, no? Era intervenuto... Sì, con un umore... Qui con un umore positivo. Eri positivo. Ma lo suono tuttora? Eri positivo, però la situazione non è cambiata. Nel senso che dovremmo parlare sempre delle stesse cose. Perché la Roma, dove l'avevamo lasciata, è rimasta praticamente. Diciamo che non è che sto qui in veste di difensore dell'ennesimo risultato utile consecutivo. Perché non è quello che ci aspettavamo, un altro pareggio. Però la situazione è qualcosa che è nuova, ma è sempre la stessa a Roma del lamentarsi del risultato che non arriva, della situazione di incompiutezza che ci contraddistingue. Penso siamo unici in Italia, forse nel mondo, per esaltarci quando vinciamo una partita e affossare tutto quanto e buttarlo sotto terra quando non vanno bene le cose. Diciamo che la situazione è questa. Più noi ne parliamo male, più sicuramente le cose non si risolvono. Non saranno le contestazioni, non saranno... Sentivo anche fra amici, ti ricordi quando tiravamo le uova fraciche o il pesce? È una volta! A proposito di cibo, no? Sì, però se tu vai indietro con la memoria, ti ricordi... Non è vinto niente uguale. Sì, 2001 e 82-83, cioè capito, non è che sono quelle che hanno fatto sì che la Roma vincesse uno scudetto o quant'altro, quindi più che altro la voglia di pazientare su un progetto è che secondo me ha i giusti interpreti. L'allenatore non è, a mio avviso, in discussione, potrebbe essere criticato per alcune scelte, per alcune cose, però è una persona sana, una persona intelligente e secondo me può far parte di un progetto che può durare almeno 3-4 anni e non si può crocifiggere alla seconda stagione. Ecco, però per te è una stagione un po' deludente, cioè avevi delle attese maggiori? Sta prendendo una brutta piega questa stagione o no? No, non mi aspettavo una Juve così imprecisa in alcune situazioni, quindi il cammino della Juve ha fatto sì che noi ci sperassimo un attimo di più, però non mi aspettavo una vittoria del campionato così in dieci giornate e non è neanche tutto da buttare, perché se Napoli ci credeva a dieci punti sotto di noi qualche tempo fa, al secondo posto e anche allo scudetto... Sì, sì, parole loro, eh! E adesso ci stanno a pochissimi punti di distanza, perché non ci possiamo credere noi nel caso riuscissimo a infilare dieci vittorie consecutive da adesso in poi. Non mi sembra questo disfattismo poco propedeutico alla causa, è semplicemente questo. Sai, molta gente non ci crede in questo momento perché vede la squadra in campo, dice, con questa squadra che gioca così, ma dove andiamo? Allora, questa è una cosa sacrosanta e soprattutto non è da non mistificare il fatto della preparazione atletica, c'è stato qualcosa di sbagliato, sono tutti capaci a parlare dopo che gli errori sono stati fatti, il problema è che però veramente i ragazzi non corrono più o comunque non hanno mai corso negli ultimi due mesi come correvano magari la passata stagione, il fattore imprevedibilità del gioco di Garzia lascia il tempo che trova, perché alla fine, pure se si adattano le altre squadre, la Roma ha i giusti interpreti per fare la giocata del singolo, che poi dopo valorizza pure il collettivo, attenzione alla bellissima azione della Sassuola. Sei più attento di noi! Però per quanto riguarda la forma fisica, secondo me è vero che in uno stato di forma migliore, tutto viene molto più facile, dal cross al colpo di tacco, all'inzuccata, alla scivolata, se arrivi sempre dopo sulle palle puoi essere un fenomeno, però alla fine... Poi subentra pure la frustrazione perché vedi che non ti riescono le cose e va in crisi. Però la cosa più brutta che sento questi giorni è gli attacchi a Personam, Mettice Pjanic su tutti, non è che credo che un professionista si diverta a fare figuracce per l'Italia, perché alla fine questo stiamo facendo, e nemmeno l'ultimo arrivato di un biapo veraccio che viene crocifisso, facciamo finta che non è un campione, che è una mezza busta, mettiamolo pure in conto, però non è che lo aiuti ad inserirsi in un gruppo, fischiandolo, neanche accusando l'allenatore di averlo buttato in mezzo, se mai lo butti in mezzo mai vedi le qualità, poi magari fra due giornate comincia a fare doppiette su doppiette e ci dimentichiamo di quanto l'abbiamo insultato. Magari, però è anche vero che non è possibile far finta di niente, no? No, ma contestare è giusto. No, ma al di là della contestazione, visto che noi qua apriamo un dibattito costruttivo, ci sta però parlare degli errori, perché qualcuno inevitabilmente a tutti i livelli ha sbagliato. Per forza, perché? Il problema del calcio a volte, visto che io vengo da uno sport diverso, è qualcosa che mi suona sempre nuovo ogni volta che viene rapportato al calcio, è che ci si dimentica del collettivo. Quando le cose non vanno, si vanno ad analizzare singoli, più singoli, più singoli, più singoli e fanno il collettivo. Però il collettivo non si fa uno più uno più uno andando a crocefiggere tutti quanti. No, quello no. Si vince tutti e si perde tutti. Tutti insieme, esatto. E quando alla fine le cose non vanno, andare ad analizzare la situazione solo dal punto di vista dei singoli è sbagliato. Bisogna fare un'analisi totale e quindi Sabatini ha sbagliato, la presidenza ha sbagliato, l'allenatore ha sbagliato, i giocatori che sono gli interpreti che vanno in campo ogni domenica, ogni giorno che sono chiamati in causa, sbagliano e tutti devono fare la mia colpa. Quindi la situazione però se non la si analizza e non la si butta da zero fino a risalire in visione totale non se ne uscirà. Cioè si cade tutti insieme e si risale tutti insieme, no? Se continui a dire Pjanic sta pensando l'anno prossimo alla prossima squadra, Rudi Cassia è già stato comprato da X squadre, non fai il bene della Roma, ti fa quasi piacere che vada male per poter poi dire avevo ragione. Gli avevo detto, c'avevo ragione, questa era una busta, non lo so, io non sono un ottimista, un positivista così a spada tratta, però sono per la pazienza e se abbiamo avuto pazienza per degli anni di gran lunga peggiori di questo non capisco perché non se ne possa avere in questa stagione in cui adesso sì, dobbiamo guardarci le spalle, però in fili, due partite di fila giuste e la Juve perde qualche punto per strada e ristai di nuovo a tre punti, a quattro punti e ci puoi credere. Quindi ci credi ancora nonostante il meno nove perché non ne dice lo scontro diretto? Io sempre, tutta la vita. No, mi piace, mi piace questo, questo può essere ottimista, questo può essere positivo. Come nel basket quando magari al secondo quarto stai sotto dei quindici punti e poi vinci le partite all'ultimo quarto perché non ci può credere la Roma a meno nove andando a meno. Ma ci credi, sì. Questo atteggiamento mi piacerebbe che ci fosse all'interno della Roma, sentono dichiarazioni, Sabatini ci dice che lo scudetto è andato, consolidiamo il secondo posto, cioè mi sembra che pure loro, non so se sono strategie quelle, non lo so se sono strategie, Forse, però visto come reagiscono alle provocazioni mi sa che è meglio cambiare strategia. Però io potrei essere ottimista come te, caro Gabriele, qualora vedessi funzionare le gambe dei giocatori, cioè qualora vedessi un'aroma reattiva dal punto di vista fisico, attenzione al Napoli, attenzione per Zapata. Il problema è quello che io non vedo una reazione nella squadra, nei giocatori, nelle gambe, nella testa, quindi la penserei di gran lunga come te se vedessi però qualche cosa in campo di positivo. Vediamo delle facce preoccupanti. Però il problema è che o si fa la rivoluzione totale e non solo a livello societario, ma anche a livello di spogliatoio e eventuali mele marce o colori uguali, sono sempre quelli che in periodi di difficoltà cominciano a mettere zizzania e si cacciano via e si risolve la cosa, se sono queste le situazioni. Però nello spogliatoio non è che c'entriamo noi, ci vanno loro e gli addetti ai lavori, quindi possiamo solo fare delle ipotesi. Se adesso la squadra sta un attimo camminando in maniera vistosa proprio provocatoriamente per dare dei segnali alla società che magari X si è lamentato dell'allenatore e quindi ha un potere particolare, potrebbero essere mille le ipotesi da fare, ma non cambia lo stato delle cose, quindi sono per cercare di risollevare la situazione. Poi il problema è che si danno delle conclusioni prima ancora che finisca un percorso. Posso capire a maggio e dire ok, hanno sbagliato Tizio Caio, Sempronio e si mandano a casa, ma adesso non c'è motivo di esistere una polemica così perché è sterile, cioè non fa il bene, non continuerai a fare punti, farei solo figuracce e rischi pure del giocatore al secondo posto. Poi voglio vedere chi ce va a costo a giocarsi i preliminari dei Champions League. Giusto, giustissimo. Ma c'è una cosa, ad esempio, di questa gestione generale da parte degli americani, questa è una gestione che non ti piace, c'è il piacere di vedere una cosa fatta in maniera differente, da tifoso proprio. Ma io ero perplesso all'inizio perché guardavo all'Inghilterra e le altre situazioni in cui si sono inseriti dei magnati e quindi ero un po' preoccupato all'inizio. Poi invece lo sguardo verso il futuro e quindi non a breve termine da parte di chi ha investito in questa città mi hanno fatto sempre ben sperare e non sono ancora scontento dell'atteggiamento. Di sicuro mi sarebbe piaciuto un po' più di presenza, un po' più di cattiveria che è quella che ha sempre contraddistinto gli americani che possono piacere e non piacere ma su alcune cose sono fantastici. Sì, non dovevano far esporre giocatori, non dovevano far esporre allenatori, non dovevano far esporre il DS. Alcune volte il padre padrone si deve far sentire, questa è una cosa... Meno buonisti insomma, dai. Sì, almeno da parte loro meno buonismo così ci possa essere più buonismo fra gli interpreti. Gabriele, qual è la tua canzone preferita? Cioè una canzone del cuore, tra virgolette? O comunque un artista. O un gruppo, esatto, un artista che... No, purtroppo metto sempre in difficoltà chi mi fa queste domande tipo qual è il piatto preferito, il film preferito, il libro preferito, dicendo sempre le stesse cose. Però è quello, in base al momento... In questo momento che te senti? Adesso che mi sento... Vai, perché qui puoi fare tipo il jukebox, siamo in radio. Posso guardare una cellulare natale. Hai sciazzammato qualcosa? No, no. Ci ha l'aiuto da casa. Intanto seguiamo Spots in Napoli, che ha avuto un'occasione adesso con un tiro di Amsic, poi respinta del portiere avversario, palla a maggio, è finita con un nulla di fatto questa azione del Napoli. Partita, ce l'aspettavamo, con l'occasione da una parte e dall'altra. Adesso il Napoli sta uscendo fuori. Il Napoli però sta andando un pochino meglio del Sassuolo, ha avuto più opportunità. Ti dico il gruppo, sono gli Stone Sour, il lead leader Corey Taylor, che è il cantante degli Slipknot, e mi sono venuto in mente adesso perché mi risentivo da piccolo e sono andato a sentirmi gli Slipknot a Milano, e quindi Stan Sour. Tosti loro, eh? Ok. Ma sì, sono un po' più soft dei Slipknot, però sono tosti comunque gli Stan Sour. E a proposito, scusa se sto fregatempo, mi è venuta in mente una cosa su Serbio di Francesco. Grande di Francesco. Se vi ricordate l'inizio che c'ha avuto lui al Sassuolo, l'hanno fassecco, l'hanno fasseccato, l'hanno richiamato. E poi vedi adesso come stanno a giocare, piano piano, bisogna da fiducia. Peggio dei Malesani, 5 partite e 5 sconfitte. Che me tengo, Malesani, come si fa? Vincenzo Canzonieri, hai notato tutto? Andrà Giordano, ti aiuto? Rientriamo con quel pezzo? Rientriamo con quel pezzo. Per Chef Rubio, tra poco. È questo uno dei pezzi? Sì, sì. Non male, eh? Vi è piaciuto, eh? Sì, assolutamente. Stonsur. Ascoltarti quasi tutto è un pezzo così. No, tra l'altro, il titolo credo che si possa tranquillamente associare alla Roma. Riborna, rinascita, no? È quello che ci auguriamo. Speriamo. È l'augurio. Guarda, vorrei essere veramente associato a qualcosa di positivo della Roma. Quindi speriamo. Speriamo già dall'Europa League. E poi vediamo un attimo che sorprese ci saranno poi. Durante la pausa parlavamo pure di come ha preso una piega storta, anche a livello di fortuna o sfortuna. Un po' quello che diceva Rudy Garcia, che non ha voluto commentare Walter Sabatini, no? Un po' di sfiga, anzi, un po' tanta sfiga c'è stata. Ci sono delle situazioni che a volte basta o niente perché cambino. E purtroppo, quando magari ti dice male per forma fisica, attitudine e quant'altro, se ci fosse un attimo pure di buona sorte, credo che pure quelli che ci credono di meno in una cosa come lo scudetto, o comunque come una rinascita, si possano lasciare coinvolgere da una situazione positiva. Quindi, ecco, ci dice pure male. Chiudo gli occhi e vedo DDR. Ragazzi, parla uguale a Daniele Teruna. Anche quello che dice. Da Ierubio la pensa con i tempi, per tono e per concetto, vuol dire gli assomigli. L'altra volta, quando è partita l'intervista, io mi sono dovuto fermare su A Dangenziale. Lo slide show su Roma TV, vero? Sì, ma mi sono fermato perché... Poi poi, vabbè, lasciamo perdere. Vai, 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 vai. No, nel senso che sono dei discorsi di uno spessore pazzesco e puoi contestare quello che vuoi, lo stato fisico, psicofisico, per tutte le cose che possono capitare al di fuori del campo, che tutti ignorano, ma alla fine sono esseri umani come noi e cercano comunque di lasciare i problemi al di fuori del campo da gioco come meglio possono e a volte non ci riescono. Quindi, quell'intervista, secondo me, era un atto d'amore nei confronti di una società e di una città che spesso è ingrata. Parlo di lui e immagino Francesco Totti, quali sono i giocatori della Roma che è più nel cuore, diciamo? Ma da quest'ultima stagione, sinceramente, sono rimasto troppo male per la sfortuna e la gestione di Kevin Strotman, che è, secondo me, uno dei pochi, insieme a Daniele, che potrebbe giocare tranquillamente al rugby. E quindi veramente mi è dispiaciuto tantissimo, soprattutto non tanto per il professionista quanto per la persona, per il ragazzo, perché è uno che si è subito innamorato della città, ha sposato la causa e non meritava una stagione del genere, soprattutto neanche alcuni fischi, alcuni atteggiamenti da parte di quei tifosi che io non ritengo neanche tali, perché sono persone che non hanno mai neanche fatto squadra intorno al tavolino di una partita a carte. Tra l'altro, proprio nell'intervista a cui facevi riferimento, Gabriele, Daniele Terossi cita l'NFL, cita il football americano, insomma, dicendo che è uno dei suoi sport preferiti, per cui... Sembrano molto simili al rugby, l'NFL, però non c'entra praticamente nulla, ma è uno sport di contatto, uno sport dove... Come attitudine. ...ti devi fidare del tuo compagno, perché è l'unico che può guardarti le spalle, proteggerti da un... Lì è anche peggio perché ti possono blaccare anche quando non hai la palla, quindi ti arrivano tutte le direzioni, quindi sì. Insomma, poi pure il fatto, ritornando all'intervista di Daniele, non lo sminuirebbe mai una sua di partita per una chiusura oltreoceano, cioè non perderebbe ai miei occhi assolutamente nessun valore, perché ha sempre fatto ciò che gli è andato e che lo faceva stare bene. Mamma, che numero Berardi che ha fatto? Berardi, era Berardi, sì. Che numero che ha fatto. E quindi no, scusaci. No, 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 ma... Dribbling a rientrare, sinistro pazzesco. Gioca sempre bene quando gioca a Juve, poi gli viene la febbre oppure... Sì, con noi fa sempre il mostro, Berardi. È in risposto con la Juve, sì. Grande azione comunque, andato via a Culibali. Grande azione sulla destra, sì. Sassuolo gioca in verticale molto molto bene. E parlavi del rugby, insomma, quante cose del rugby ti piacerebbe vedere nel calcio? Non parlo di gioco, eh? Non parlo di calcio giocato, di atmosfera, di come si vive quello sport rispetto al calcio. Ma sicuramente sugli spalti, è un qualcosa che mi ha sempre... Io so che sono nato sportivamente, ho fatto diversi sport, ma comunque a dieci anni ho iniziato il rugby e da lì sono sempre stato abituato a degli spalti che, a parte qualche sfotto, non prevedevano alcun tipo di violenza. E quindi il fatto che in uno sport ci si mazzi nel campo, credo che basti avanzi a chi guarda quello sport, perché se si accalmi e si reputi quello spettacolo, semplicemente per quello che è, ossia uno sport. E quindi sicuramente il pubblico. Il pubblico dei frustrati che si riversa all'interno degli stati è una cosa inquietante, che però è un problema sociale. Quindi non dipende dalle persone che entrano dentro lo stadio, ma dallo Stato che permette che queste persone, alla fine, vivano nell'ignoranza totale del rispetto, a volte anche della vita. E perché si riversano nel calcio e non in altri sport, però? La capienza degli stati ha già una risposta. Il fatto che è uno sport che è diventato business negli anni e quindi è ovunque, fa sì che chi o sta di fronte alla televisione o non ha molto tempo da impiegare, in un'altra maniera si affascini o si innamori del calcio e di conseguenza il gioco è fatto. Non ci vogliono degli scienziati perché cambino le cose. La gestione, la malagestione del governo e del calcio è tutto verso un disordine, un caos che fa comodo ai potenti. Mandano anche dei messaggi sbagliati, può essere anche quella una componente. Cioè chi lo comanda il calcio, chi lo gestisce, manda dei segnali e dei messaggi sbagliati. A proposito di cibo, no, a proposito di pane, pane e vino al vino. Ma è così. A proposito di rugby, per tornare a una sfumatura positiva è anche una delle tante cose che tu stai facendo in questo momento, Gabriele. Il 15 marzo, così diamo anche una notizia, una comunicazione di servizio ai tifosi della Roma, all'Olimpico ci sarà il rugby, ci sarà Italia-Francia, per cui proprio per questo motivo Roma-Sandoria verrà posticipata in quest'ottica. Il rugby non è nostro amico perché giocare il giorno dopo su una partita con quei non so quanti, manco in quanti si gioca in realtà perfettamente, però insomma, con quei pesi massimi, ecco, con 30 pesi massimi che no, se si rincorrono in maniera convincente non è mai un bene, però fatto sta che è così, tu stai collaborando con Rugby Social Club, sarai a bordo campo anche quando si gioca in casa, immagino, no? Quando ci sono le partite in casa, quella è una delle situazioni in cui mi trovo sia a bordo campo, sia al di fuori per vedere se c'è qualcosa di interessante da raccogliere, quindi fra tifoserie avversarie scambi di brindisi più che di sì. Prima partita andrà malissimo, è un po' meglio. Prima partita molto male l'Italia, sbaglio? Ma diciamo che i ragazzi ci sono e la prima partita purtroppo se la sono gestita in maniera sbagliata, magari era la prima di un nuovo torneo e per tante persone, però il gruppo è solido e ci sono tanti giovani che già hanno fatto un'esperienza l'anno scorso e quindi nelle partite a seguire spero che siano più collaudati, hanno fatto vedere belle cose nella seconda partita in trasferta contro l'Inghilterra e siamo riusciti anche a segnare tre mete, quindi non ci sa se andrà solo che meglio e il tutto deve essere visto in chiave appunto non da sei nazioni ma da mondiali, quindi mai guardare una situazione solo da un punto di vista. Quanta saggezza. Ma nel terzo tempo cucini tu? Sono tanti, sono affamato. Ma se bevi nel terzo tempo. Non ti hanno mai proposto al chef, dai. Ma è sprecato perché serve comunque solo per far tappo a qualcosa di liquido che entra. Eh lo so. No, no, cartoni di pizza su cartoni di pizza da assorbire. Però così, capito, crei tentazione negli atleti, nei giocatori. C'è lo chef a bordo campo e non mi cucina niente, per forza. E l'altro noi volevamo farti cucinare oggi ma tu capirai bene che è impossibile. Ho proposto, a dirla tutta perché non sono tanto normale, di portare delle piastre elettriche e metterti, però mi hanno detto, ah te denuncio, quindi tutti cacciavamo. Non si può, 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 ho pensato che non era il caso. Ci abbiamo provato però, magari in un altro contesto riusciremo anche a farti cucinare qualcosa. Guarda, facciamo magari in esposto per una cappa e poi la prossima volta ci portiamo proprio le grigliettine Se qualcuno mi ha retta prima di cacciarmi, sì, sicuramente te lo faremo sapere. Tornando ai tifosi, il discorso che state facendo prima sui tifosi, voglio il pensiero insomma da parte di Chef Rubio, da parte di Gabriele, su quanto è accaduto qua giovedì scorso da parte dei tifosi del Fajenor, del Sacco di Roma, come qualcuno lo ha definito. E' bello strumentalizzare queste situazioni, non che noi siamo, noi intendo come italiani, non come tifoseria romanista o quant'altro, siamo degli stinchi di tanto quando andiamo all'estero perché comunque sappiamo che siamo di passaggio e possiamo fare incerta di quello che vogliamo. Di certo hanno mancato di rispetto all'umanità per la poca attenzione che hanno avuto nei confronti di un centro storico, però la cosa buona è che il Fajenor subito dopo si è dissociato insomma ci sono delle situazioni che non pendono solo da una parte ma la gestione della sicurezza dell'immissione, dell'accettazione di 5.000 persone che si sapeva già da mesi che sarebbero state così tante e che si sapeva essere una delle tifoserie più calde olandesi si sarebbe potuta gestire altrimenti, sempre parlare un attimo dopo come i buoni nei film che arrivano sempre un attimo dopo è facile. Il prefetto ha detto che non era pronosticabile, sono una domanda in che mani siamo tante volte. Diciamo che a volte io non sono un complottista per natura ma tante situazioni che si presentano in questi ultimi anni servono spesso a far distogliere l'attenzione della massa da cose ben più grave e quindi quando c'è una settimana in cui si parla degli olandesi che pisciano a Campo dei Fiori ci si dimentica dei veri problemi dell'Italia, quindi il problema non sta tanto nel calcio negli interpreti che vengono a fare un po' di razzia ma a monte, quindi le masse si controllano così. Tornando invece proprio al calcio, a quello giocato, noi tutti i tifosi a parte la Roma abbiamo delle squadre che ci piacciono anche perché magari giocano un determinato tipo di calcio, se sono un amante del calcio offensivo magari mi piace proprio il sassuolo di Di Francesco quest'anno. Ad esempio tu che genere di calcio ami, perché insomma da sportivo lo hai fatto, i campi li hai calcati anche se di un altro sport e che squadra ti piace, no? Quale squadra identifichi nel tipo di calcio che hai tu in mente? Ma allora se parliamo di situazione attuale hai citato una bella squadra, quale il sassuolo che ho visto anche contro l'Inter, ho visto in altre situazioni, è veramente brillante perché gioca come la Roma di alcune situazioni, alcuni anni con Spalletti o anche l'anno scorso come una squadra, quindi levata la tecnica levata la giocata mnemonica, comunque corrono e se fanno un errore lo recuperano e insomma il sassuolo è divertente. Se parliamo di squadre che mi hanno sempre affascinato io posso dirti da aver pianto nella finale, non mi ricordo che anno, se era il 2000 o qualcosa o anche prima di Bayern Monaco-Manchester quando l'ha perso. Ah, il 99, mi sembra sì, il 99. Ero un fan sfegatato di Marione Basler. Super Mario Basler. Sono stato malissimo, sono stato. Uomo dai gol impossibili. Sì, sì, sì. Poi da fermo pure a 1-1-0 fece un tiro quasi da centrocampo traversa, insomma se la sentivano abbastanza a calla come si dice a Roma, invece niente, abbiamo preso la doscia a fredda. Sì, quel Bayern mi piaceva molto e comunque mi divertono molto le squadre, le squadre, le eterne seconde, però negli altri campionati, non a Roma. Stavo a disadarmi. No, 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 vabbè, ma putacaso, vedi? Non sarà mai un caso, perché quel caso non esiste e quindi eccoci qui. Certo, forse lo sport che come spirito si avvicina più al rugby è quello, il calcio che più si avvicina allo spirito del rugby è quello inglese forse, no? Sì. Ma il fatto che già in Inghilterra, qua da da mangio a molti, da visibilità a molti, da mangio a voi e visibilità a me, il fatto che ne parliamo del calcio anche in giorni lontani dalle partite, però in Inghilterra, come ben sapete meglio di me, la partita finisce nel momento in cui termina l'incontro e al massimo se ne parla o prima nei pub o nell'antepartita della partita che segue in mezzo alla settimana sono veramente rari i talk show e le situazioni in cui si vuole appesantire un qualcosa che è uno sport e poi ci pensano gli imprenditori ad arricchirlo con un movimento. Fa un po' eccezione Gabriele Sai Kiccio, sei Mourinho, che anche nell'ultima partita, però è fantastico. Lui negli ultimi anni ha cominciato a stravolgere il panorama europeo. No, ma nell'ultima partita il Chelsea ha pareggiato in casa contro il Barlin, ci sono stati parecchi episodi dubbi, si presenta in conferenza stampa a Mourinho. Ha dato i minuti degli episodi dubbi, 30, 33, 43, 77. Qualcuno vuole più. Io mi sono giocati, forza, vabbè per forza che facciano il gioco. Poi ripartiamo magari da Mourinho perché ti voglio chiedere una cosa, Mourinho-Garzia, perché insomma i due sono stati messi un po' a confronto, soprattutto per quanto fatto da Garzia lo scorso anno. Sempre paragoni azzardati qua. Sempre paragoni azzardati. Ci fermiamo un attimo, pausa, poi torniamo. Grazie. 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 Mourinho-Garzia. Grazie a tutti. 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 A difendere. Anche quando parla di Scudetto? Scusa ti interrompo Gabriele. Sì. ецrynza. i ha fatto male a parlare così scudratamente di Scudetto? No, quello secondo me non era veramente un messaggio che voleva dare per dire quest'anno ミcere lo Scudetto ma era per motivare i ragazzi che avevano perso 3 a 2 in merita Ehmmeno. dietro. e dire ragazzi non vi preoccupate che dalla prossima se ricomincia e andrà tutto meglio. Però l'ha fatto più volte, no? No. Più volte l'hai ri-roiterato ehm. non ci scordiamo che l'amichetta del portiere tira fuori sempre questa situazione e la butta sempre con montaggi scandalosi su Sky ieri montaggi scandalosi domande ancora più scandalose suggerite ieri ho zittito anche che tira e tira, si è stufato e ha detto non cercare un uomo, non ce ne stanno, grazie lì neanche con Cattiveria sono proprio incompetenza più totale non sai di che stai a parlare purtroppo c'è il Fona che quindi io suggerisco non è colpa sua, non sa neanche di che sta a parlare c'è stima però c'è stima però per Rudy Garcia mi piace tanto a me da morire mi fa impazzire il fatto che sia finalmente una persona colta seduta in panchina e soprattutto che potrebbe anche lui tranquillamente essere un allenatore di rugby per i valori che trasmette che non sono quelle cose che racconta Giuseppe Murigno in ogni squadra che va lui si vede proprio che si è innamorato da Roma tant'è che si è trovato pure nella Romana se non mi sbaglio quindi è veramente innamorato della città della squadra e ha sposato la causa e mi dispiace quando lo si metta in discussione anche anche con dei motivi validi ma il modo forse sì è il modo perché comunque sono cose gratuite spesso che vengono dette a dei professionisti che danno il massimo eppure se noi adesso stiamo dando il massimo e ci scappa un congiuntivo una parolaccia comunque non possiamo essere aggrediti solamente perché cercando di fare il massimo magari facciamo qualche errore cioè pensi che possa stancarsi di questa piazza come secondo me questa piazza possa stancare lui come ha stancato molti secondo me succederà al contrario succederà purtroppo che lui dopo tanti tentativi di di tenere unita la piazza stremato se ne andrà questo è quello come abbiamo visto tanti stani arrivare pieni di cariche andarsene stanchissimi quasi invecchiati no? sì ma infatti lui aveva molti più capelli prima adesso comincia che c'è no io l'ho visto più stanco guarda che sta cazzo è una tragedia gli sta venendo la piazzetta l'anno scorso c'era una forza vaga adesso è proprio è vero è vero adesso 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 è vero beh a Mourinho vengono i capelli bianchi poi a Mourinho si è becchiato parecchio no quindi insomma secondo te la piazza comunque conta anche è fondamentale a Roma non si vince perché la piazza è quello che è ma quello sta diventando tutto una scusa il fatto che c'è il tifoso troppo affettuoso all'inizio e poi dopo drastico nelle situazioni cruciali e il fatto che gli allenatori vengono prima osannati e poi dopo vengono buttati giù ci sono tante componenti che a Roma purtroppo hanno fatto un cliché hanno fatto di Roma un cliché dove tu anche nel professionismo calcistico senti giocatori che consigliano a eventuali colleghi di andare a giocare a Roma perché c'è una piazza pazzesca ma di stare comunque attenti quindi comunque già è entrato in circolo il modus operandi del romano romanista però se ne potrebbe uscire tranquillamente puliti se solo lo volessimo semplicemente il fatto che ci ripeto il fatto di non avere la certezza matematica di arrivare sempre al risultato massimo porta alcuni interpreti a dire speriamo che succeda questa cosa per poi poterci lamentare perché alla fine comunque ci lamentiamo e abbiamo il consenso popolare non vinciamo a vinceremo l'anno prossimo l'importante è che comunque abbiamo qualche idolo e ogni anno ce ne viene uno nuovo prima era Benadia e poi ci è andato male Benadia e l'anni passa noi vecchiamo e noi capito di che parliamo allora diamo spazio anche ai nostri ascoltatori perché Gabriele sono arrivati un sacco di messaggi per te dobbiamo chiudere in 3-4 minuti però qualcuno te ne leggiamo Zerafael scrive tanto la squadra è già cotta adesso è arrivato pure lo chef questo è divertente importante poi qualcuno che apprezza grandissimi 30 lote di Stonsur come intro se mettete anche gli slipknot avete vinto Alessandro Puglite bene allora se magna troppo forte se i tifosi della Roma avessero metà della tua intelligenza scrive Mauro Bacicaluchi del tuo equilibrio potremo vincere molto di più concorda in pieno con la tua ragazzi datemi un anno mi metto un cesto poi se mi serve un difensore centrale mi butto nella mischia ci vedi come capopopolo che guida in coppia con Manolas magari a me mi piace molto a me mi piace troppo anche se anche se ultimamente vabbè mi manca il giusto incastro fate una castana mi manca il giusto incastro a quel poraccio accanto manca un affiatamento lì dietro eh sì Fabrizio De Santi si scrive grande rubio parla come magna questo è il segreto del successo ah no parla pensavo che era un esortativo più del così grande perché parli come magna Marco Simone ti fa i complimenti troppo forte rubio ma toglietegli la penna effettivamente è un gioco lì e qualcuno qualcuno dice ammazza quanto è grosso beh è un ex rugby si può vicino a Salatino e qualcuno ci faceva notare esatto io sono un po' più piccolino diciamo ma no in realtà Dani è prestante è proprio lui che è gigante è lei gigante è gigante è solo la testa tutta capoccia tutta capoccia è capoccione e noi siamo praticamente in chiusura però qualcosa sull'Europa League te lo dovremmo domandare si pari ricordiamo anche un po' i suoi impegnati eh sì esatto rassemblamo roba dei pronostici che mi fate mettere contro la piazza no no nessun pronostico però l'abbiamo definito noi in apertura Gabriele è un po' il crocevia della stagione della Roma la partita di giovedì tralasciando quella di lunedì con la Juventus lo scontro lo scontro diretto però giovedì contro il Feyenoord il ritorno dopo l'1-1 dell'andata è ma più per l'orgoglio è uno snodo cruciale assolutamente sì la situazione in Europa League deve essere scissa dallo scontro che poi ci avremo con la Juventus e pensare a quella dopo perché quella partita comunque se noi dovessimo vincere in Europa League e passare il turno allora dovremmo pretendere la vittoria con la Juventus che non sa la portiamo da casa detto fra noi direte no però sicuramente i ragazzi e soprattutto la squadra devono dimostrare più che altro a loro stessi di essere giocatori non ai tifosi o a quant'altro perché non passare il turno con un Feyenoord del genere vuol dire proprio che non te vada e gioca a calcio allora dai un segnale forte se invece vinci e poi magari ti dice male un'altra volta con la Juve però fai 700 ti rimporta due pali te buttano fuori uno maggiore di 10 o l'arbitro esatto ci sta perché è uno sport però in questi ultimi ti prende sempre il come bravissimo puoi perdere se vuoi sempre perdere hanno sempre insegnato così pure al rugby se vuoi sempre perdere ma l'importante è il come Gabriel il suo mamma i tuoi impegni che ti vedono no al momento protagonista quindi diciamo Rugby Social Club su D-Max in casa bordo campo tra strada e bordo campo fuori dentro lo stadio terzo tempo quarto debù eccetera con i regbisti e il popolo del rugby su D-Max mi lasciassero mai in Agostina niente e ora ricominciamo anche ricominciamo mi sono messo a me vieni mi vuoi venire mi serve un'assaggiatrice ufficiale oh voi hai meccanico perfetto noi vediamo e poi si stanno cominciando i sopralluoghi e le stesure delle puntate di Unti e Bisunti 3 che partiranno per fine estate autunno di quest'anno perfetto perché molti lo aspettano ce l'hanno scritto in tanti intanto mi documento io imparo con tutte le puntate e tu invece datti da fare le puntate le trovano online per chi se lo fosse perso neanche a dirlo entro fine stagione torni non è se di casa dobbiamo fare un bilancio quindi ora sei capito in una via di mezzo sono promesse come i cattatori folli sono promesse in diretta mi sei registrato entro fine stagione vediamo come speriamo anche che il momento sia migliore lo sarà sicuramente perché peggio di così non credo che si possa andare con una squadra del genere possiamo andare solo meglio anche prima di fine stagione anche un richiamino tanto io parlo con Barbara tra l'altro salutiamo e ringraziamo Barbara Castello il tuo figlio stampa che è veramente un tesoro adesso le facciamo un sacco di domande vorranno da pure a lei la prossima volta la buttiamo in studio quindi è prestissimo adesso la portiamo a cena prima di tutto la sola a lei a me no 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 pure a te però mi vergogno perché già ne abbiamo parlato prima il sushi brasiliano cambiamo idea cambiamo idea ragazzi fatemi trovare una cappa e poi faremo anche le grigliate qua sul posto noi ci adoperiamo nel frattempo intanto grazie grazie a voi ragazzi grazie mille Chef Rubio Cabellero Rubini la risposta ce l'ha sulla maglietta comunque il successo è la vendetta migliore grazie grazie Gabriele Valentina noi ci ritroviamo domani domani con te alle 14 alle 14 io e Danilo alle 17 grazie mille aspetta no vedo far vedere questa chi è che è U? chi è U? no è Elvis Elvis questo è il santino che porto io lo appiccichiamo e da oggi in poi i problemi della Roma spariranno è un fotomontaggio meraviglioso Elvis con la maglietta della Roma con la barilla esatto lo scudetto 82-83 giusto? lo regalo grazie questo qua a Madonna vuole risparmio la Rossione se va peggio non lo ritiriamo fuori speriamo di no lo regaliamo a Valentina che fa collezioni ti piace Elvis? colleziona le figurine Elvis lives dai questo sarà il nostro santino portafortuna allora ragazzi grazie a tutti grazie in modo particolare a Gabriele Rubini nostro ospite per l'ultima ora qui in diretta su Teleradio Stereo grazie a Vincenzo Canzonieri in cabina di regia prima ancora ad Andrea Giordano grazie a Alessio Nardo per l'aiuto in redazione arriva il GR con Daniele Cecchetti poi un altro tridente c'è Madedu c'è Adriano Serafini c'è Fabiola Fabiola Rieti con voi ragazzi buon proseguimento grazie a tutti grazie Chef grazie a voi ragazzi ciao